Questo è grosso eh È un volcana Ma io Ma scusa, la altezza non è Quello non è il cielo, scusami Eh Il cielo non è più qui a sinistra Spavento 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 Grazie a tutti 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 C'è un via a vari mezzi Tra aerei e ricotteri Quanti ne passano? Vi stanno bruciando e anche più su, guarda più su Vedi che lì vicino a dove va l'elicottero a spingere poco ci sono anche delle case Guarda, guarda, sta sganciando l'acqua Hai visto quanta? Allora, viene qui o chi ne prende ancora? Allora, andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti